biblioteca lazzerini buongiorno come posso aiutarla salve senta mi servirebbe un aiuto sul catalogo sto cercando dei libri della mia pennazza ma certo controlliamo subito insieme come vede questo è il sito della biblioteca lazzerini e qui in alto trova il catalogo quello che ci interessa in questo momento è quello per la ricerca dei libri e dei film da qui le si apre la pagina della ricerca in questo caso inseriamo il nome dell'autore daniel pennac in questa schermata vede tutti i titoli che abbiamo disponibili cioè per esempio abbaiare stanca l'amico scrittore ma senta io in realtà li cercavo proprio in francese perché sto ripassando un po di francese vorremmo riprenderlo e c'è modo di vedere soltanto quelli in francese certamente si può fare una ricerca per lingua bisogna andare in questa sezione limiti e ordinamento da qui si seleziona la lingua come vede sono in ordine alfabetico cerchiamo il francese e lo selezioniamo dopodiché in fondo alla pagina diamo un esegui e qui ha tutta la lista il paradiso degli orchi il caso malossenne diario di scuola guardi diario di scuola io l'ho già letto in italiano quindi sarebbe perfetto ma lo rilego in francese ripasso sto modo qua guardi se vuole di diario di scuola abbiamo anche l'audiolibro perfetto l'audiolibro così mi sento anche la pronuncia li prendo tutte e due allora controlliamo subito se è disponibile clicchiamo sul titolo e nella scheda può vedere che in questo momento la copia della biblioteca lazzerini è ammessa al prestito è disponibile perfetto ma senta già che ci siamo non è che si può vedere la lista di tutti gli audiolibri in francese che avete certo si può fare una ricerca per controllare tutti gli audiolibri che abbiamo bisogna tornare indietro però da campi senza inserire né autore né titolo scegliamo la lingua in questo caso sempre il francese esattamente come abbiamo fatto prima e qui in basso aggiungiamo sezione audiolibri e di nuovo diamo un esegui le compare tutto un elenco di risultati come vede sono 47 audiolibri quelli che abbiamo in lingua francese se vuole controllare la disponibilità è sufficiente cliccare sul formato complesso perfetto io da questa lista mi posso controllare tutti e quelli che sono disponibili posso venire a prenderli giusto? esatto benissimo allora grazie mille ci vediamo prestissimo arrivederci niente arrivederci a presto grazie mille ci vediamoquet cade Grazie a tutti